Immerso nel romantico e suggestivo paesaggio della penisola sorrentina, l'Equa Hotel vi regalerà lo scenario da favola che avete sempre sognato per l'ambientazione delle nozze. Le sale interne e le terrazze sono particolarmente indicate per accogliere il buffet o l'intero banchetto. Qui, classicità ed eleganza si incontrano e danno vita a un'atmosfera gradevole per i momenti più conviviali della giornata. Il personale dell'Equa Hotel sarà in grado di ottemperare a ogni vostra richiesta. Con professionalità e gentilezza vi accompagnerà durante tutto il percorso dei preparativi, per poi coordinare la festa in maniera impeccabile. La proposta culinaria degli chef dell'Equa Hotel è la vera chicca. Eleganza nella presentazione, combinazione di ingredienti innovativa, attenta selezione delle materie prime, ma anche disponibilità nel venire incontro alle esigenze degli sposi. All'Equa Hotel, il banchetto si trasforma in un percorso gastronomico degno di nota.